E ciao a tutti ragazzi sono Riccardo Giussino e prima di lasciarvi al video volevo invitarvi a iscrivervi al canale di Gioacchino Galgano e il Chiei per dirmi che lei... fare volumee ciao sono Riccardo Giussino con Umberto e il mio canale lo metto in descrizione e siamo al teatro massimo e la biglietteria ma mai me ne sono ascritto che c'era scritto biglietteria perchè non leggi ciao ciao ragazzi buongiorno dove siamo? questa è l'onda compagno sto gestendo qualche parte della parodia del facito no non lo spoiler e dico solo che il ritornello è con la parola rosa nero giacchino giacchino italico fare qualche altro ripeto qui con il copione lì ci sono i Bangladeshani che giocano a... a picchietto giocano un giacchino gargano che deve fare pipì un giacchino selvatico un giacchino un giacchino un giacchino un giacchino un giacchino un giacchino sui Però oggi tu cosa consigli a me? Tu cosa consigliare? Il legolato di petro, il cellulare Di pubblicità, tu come ti chiami? Dalla giornata ti vuoi passare e da lì devi comprare Stiamo rialno Aspetta, pigliaro geppiare, mi senti via Eh? Mi sento il video, mi sento il video Adesso vi faccio vedere Un esemplare di Riccardo Giusino detto banana Seduto in uno scoglio Questa è la bella sineretta Sineretta Guardate Umberto da lontano Qua qua c'è uno scassa di minchia Che cosa vuole? Vediamo, dimmi Comunque si raccoglie bagnato Stiamo qui Abbiamo finito le riprese Andiamo a mangiare È piccante Brucia un bordello Finalmente abbiamo finito Buono, buono Dall'inizio fino alla fine Tranne voi stesse che mi hanno detto che faceva schifo alla minchia Poi tutto Siamo tornando a casa Salo, son bene? Sono nervoso E' nervoso Oggi siamo andati all'Inter A me dove ce ne è? Ci siamo facci una canna Ho comprato l'album Due canne e cinque euro Abbiamo comprato l'album dei calciatori panini che non si mangiano Dall'inizio fino a la fine E' nervoso E' nervoso Dall'inizio fino a la fine